ciao ciao a tutti e benvenuti su archidee per questo terzo ed ultimo video in collaborazione con bb craft ho deciso di utilizzare lo stampo con le lettere è uno stampo che va tantissimo negli ultimi anni l'ho visto utilizzato veramente da tutti ero curiosa di provarlo finora ho resistito ma adesso mi sono decisa come prima cosa sono andata a riempire con la resina i possidica bicomponente alcune lettere con dei colori in tinta unita il bianco il nero e il turchese trasparente il bianco e nero invece hanno tonalità coprenti per colorare la resina possidica ho utilizzato i colori per vetro ho aspettato poco meno di 24 ore e poi sono andata a creare tutte quante le decorazioni con la resina uv ho deciso di utilizzare una serie di tecniche e inclusioni che si utilizzano soprattutto nella nail art ma anche nella resina uv e infatti devo dire che ho preso spunto per alcune di queste idee dal canale i joy art space che ha pubblicato tantissimi video per realizzare lettere con la resina vi consiglio di andarlo a guardare anche se sicuramente lo avrete già visto ma ci sono molti spunti interessanti e penso di seguirne anche io altri in futuro ho però reinterpretato i tutorial che ho visto e tra l'altro molte di queste tecniche proprio questa con le bolle di sapone l'avevo vista anche proprio applicata sulle unghie in alcuni tik tok ho utilizzato il sapone per piatti ho fatto fare la schiuma all'interno di un bicchierino e ho messo la schiuma sul strato di resina uv messa al di sopra della resina epossidica nera in questo modo mentre catalizza la resina sotto la lampada ovvi scoppiano le varie bollicine e si creano una serie di crateri che ho evidenziati in due modi differenti nel primo caso ho utilizzato il pennello per distribuire le polveri di mica e nel secondo caso ho utilizzato un tamponcino di quelli che si usano anche per mettere l'ombretto per intenderci utilizzando il pennello il colore va sia dentro che fuori i crateri quindi poi ho passato con il dito un po di colore acrilico nero picchiettandolo per evidenziare il contrasto utilizzando il tamponcino per l'ombretto si riesce a mandare il colore un po più sulla parte esterna e un po meno all'interno dei crateri prendendo spunto dai video di e joy art space ho provato a fare una lettera in cui i crateri erano solo nella parte centrale e a delimitare l'area dei crateri con uno dei colori per il finto piombo ho utilizzato quello bianco perlato idea della mai meri però devo dire che mi piace di più l'effetto con l'intera superficie della lettera texturizzata con questo effetto di bolle ho aggiunto poi degli altri strati per fare l'effetto doming bombato sulla lettera con la resina ovvi e all'interno di questi altri strati sono andata ad aggiungere le piccole decorazioni a forma di note musicali chiave di violino e altre che mi ha inviato bibi craft per questa collaborazione passiamo adesso all'effetto delle onde del mare lo vedrete realizzato in due modi questo è un primo metodo che sfrutta sempre la tecnica delle bollicine fatte con il sapone e poi vedrete a fine video invece il metodo tradizionale che già avevo usato tanti anni fa perché in quel periodo andava più di moda l'altra tecnica allora al di sopra delle lettere con il colore turchese trasparente sono andata a mettere la resina ovvi nella parte bassa e nella parte alta nella parte bassa ho messo un po di sassolini per simulare una spiaggia se li avete proprio color sabbia è ancora meglio ma anche questi bianchi alla fine sono venuti piuttosto bene nella parte alta ho mescolato alla resina ovvi i pigmenti blu e azzurri sono i pigmenti sahara di resin pro dopo aver catalizzato il primo strato sono andata ad aggiungere lo smalto bianco per le unghie di mesauda e al di sopra di quello smalto è un semi permanente ho messo sempre la solita schiumetta di sapone e ho catalizzato e in questo modo è venuto un pochino l'effetto della spuma del mare poi ho aggiunto un altro strato di resina al di sopra dell'altro strato di resina ho messo dei piccoli componenti decorativi per nail art a forma di cavalluccio marino conchiglie e stelle marine e ho aggiunto poi delle altre piccole onde fatte sempre con il semi permanente bianco anche qui ho continuato con diversi strati di resina uv e tra uno strato e l'altro di resina uv per dare l'effetto doming della parte superiore ho aggiunto qualche ritocco con lo smalto bianco utilizzandolo con il bulino per sistemare un po la forma della schiuma delle onde e farla più intensa nella parte bassa questo è l'effetto che ho ottenuto finale sulle lettere per quanto riguarda tutte le lettere di questo video non le ho ancora assemblate penso che diventeranno dei portachiavi o delle scritte ancora non lo so ma vi farò vedere quella fase magari in uno dei prossimi video in cui andrò a collaudare anche per questa funzione il mio nuovo dremel stylo plus arriviamo poi ad altre lettere con un'altra tecnica qui ho voluto utilizzare la foil per le unghie ho utilizzato una colla per la foil specifica che avevo acquistato tempo fa e va catalizzata anche quella sotto la lampada uv quindi si mette un primo strato di colla avendo cura di coprire bene tutta la base della lettera si mette a catalizzare per 90 secondi quindi si poggia la foil e si strappa via con un gesto veloce viene bene per il 99 per cento delle volte questa colla diciamo ha avuto una buona riuscita se in qualche punto la foil non attacca si può riposizionare e spingere un pochino con il dito e quindi poi strappare di nuovo e si riescono a inserire anche i pezzettini mancanti senza che sia troppo visibile la stessa tecnica si utilizza benissimo anche sulle paste polimeriche io ho utilizzato tre design di foil diverse di due marche diverse mi sono trovata molto bene mi è piaciuto molto l'effetto in questo video posso parlarvi nel dettaglio giusto dei prodotti di bb craft quindi per i dettagli agli altri prodotti vi rimando ai prossimi video o comunque in info box trovate il link al mio shop amazon dove metterò tutte le cose extra utilizzate nei vari video che non sono in collaborazione ma che ho acquistato indipendentemente per queste due altre lettere con il fondo bianco farò una lavorazione molto simile ma stavolta utilizzerò il washi tape ho utilizzato due washi tape di colorazione chiara dopo averli applicati mi sono resa conto che quello sulla i mi piace molto quello sulla l invece rimaneva un po spento e non si capiva molto bene che era una fantasia marina con i pesciolini forse perché applicato a una superficie così piccola si andava un po a perdere il disegno quindi ho deciso poi di aggiungere dei dettagli e ho utilizzato dei vecchissimi gel semi permanenti con il colore rosa ho creato una stella marina e con il colore azzurro con i brillantini ho creato una serie di bollicine che ho messo su entrambe le lettere poi ho glossato con diversi strati di resina ovvi manca solo l'ultima tecnica che è quella in cui vi farò vedere un altro metodo per fare la schiuma delle onde marine però volevo dirvi che se avete dubbi comunque in merito al materiale anche se non è di bibicraft potete scrivermi lì nei commenti e io vi risponderò sicuramente e poi se vi appassiona il mondo delle resine vi ricordo che è sempre attivo il mio corso online gioielli in resina quale potete apprendere tutte le basi per lavorare con la resina epossidica diverse tecniche proprio di base fondamentali tutte le tips i trucchetti gli accorgimenti vari per lavorare con la resina e anche tantissimi progetti con la resina uv i progetti nei corsi online sono spiegati molto più nel dettaglio rispetto ai video su youtube avrete in media dalle tre alle quattro ore di lezione in ogni corso online e avrete anche tutti quanti pdf da scaricare quindi non vi preoccupate perché sicuramente ci sono tantissime cose in più rispetto ai video su youtube per quanto riguarda la tecnica che sto utilizzando adesso ho prima mescolato un pochino di smalto bianco con la resina uv potete farlo anche con un colorante bianco per la resina poi ho messo questa miscela sulla base di colore turchese nella parte alta avevo sfumato un po di resina uv con i colori per il vetro blu e con uno smalto blu comunque al di sopra dello strato bianco prima di catalizzarlo fatto scendere alcune gocce di resina trasparente e così si sono aperti una specie di alveoli che ricordano la schiuma delle onde del mare li ho poi sottolineati dopo aver catalizzato il primo strato con qualche dettaglio aggiunto con il bulino e lo smalto bianco in assoluto che mi ha servito per definire meglio le onde anche su queste lettere nei vari strati per dare l'effetto doming alla parte superiore ho aggiunto la stella marina e diversi pallini turchesi che stimolano diciamo delle bollicine fatti con i gel semi permanenti questi dettagli volendo potete anche dipingerli con l'acrilico l'importante che non siano nello strato superiore ma che siano inglobati tra diversi strati di resino vi così rimangono protetti e non si staccano perché l'acrilico nella parte superiore della resina potrebbe staccarsi spero che le varie tecniche per nail art che ho raccolto e reinterpretato a modo mio in questo video vi siano piaciute e che vi siano di ispirazione mi raccomando lasciate un like al video per sostenere il canale iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche così non perderete i prossimi tutorial con questo è tutto io adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao